Salve amici del Centro Medio Italiano, tempo stabile grazie all'anticiclone, ma non sempre soleggiato. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni per giovedì 16 gennaio. Molte nuvole al nord con nebbie sulla pianura padana, deboli piogge sulla Liguria, asciutte altrove con nuvolosità irregolare lungo l'Adriatico ed ampie schierite altrove. Al pomeriggio ancora nubi basse su coste pianure del nord ma senza fenomeni, sereno o poco nuvoloso al centro sud. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nebbie e nubi basse sulla Val Padana, nubi sparse e schierite altrove, temperature minime stazionarie e massime lieve calo al centro sud. Per ulteriori dettagli potete seguire le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Medio Italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.